Se ne andava tranquillamente in giro per la città, portando in macchina diverse dosi di cocaina pronte per essere spacciate. Nuovo arresto degli agenti del commissariato di polizia di Andria nell'ambito dei controlli predisposti per contrastare la vendita di stupefacenti sul territorio cittadino. In carcere è finita una donna di 48 anni, Paola Fecchio, originaria di Roma, ma residente ad Andria, già nota alle forze dell'ordine. I poliziotti l'hanno fermata mentre percorreva a bordo della sua auto una strada periferica della città. La 48enne è apparsa fin da subito insofferente e molto nervosa, un comportamento sospetto che ha convinto gli uomini in divisa a vederci chiaro procedendo con un controllo accurato del mezzo. E i risultati non si sono fatti attendere. Nella vettura, una Opel Meriva, è stato rinvenuto infatti un involucro di cellophane contenente 240 grammi di cocaina. Scattate le manette, la donna è stata trasferita nel carcere femminile di Trani con l'accusa di detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'auto, la droga e il telefonino in possesso della 48enne sono stati sequestrati.